bella bella questa Opel Astra 1.6 biturbo da 160 cavalli novembre 2017 euro 6b auto veramente ben tenuta guardate che bella nero metallizzato poi veramente da quelle eleganze in più anche se questa è un'auto sportiva anche se spaziosa questa è un'auto sportiva ma adattissima la famiglia i viaggi anche un po lunghi vanno di carico veramente ampio e profondo banchina posteriore come si nota abbattibile sdoppiabile con attacchi isofix interni perfetti intonsi che meraviglia full optional quindi vetri elettrici posteriori ovviamente anteriori regolazione dei sedili auto davvero completa chilometri una manciata 86.300 se andiamo a girare il quadro eccole lì accendiamola anche auto perfetta va beh intanto si è già collegato il dispositivo bluetooth auto con navigatore climatizzatore bizona e tutto quello che vi viene in mente ce l'ha insomma basta andare sul tasto home e si può notare tutto quello che sono le sue comodità dal navigatore alla proiezione del telefonino tasto sport per essere un po più grintosi tasto per disattivare i sensori parcheggio anteriore e posteriori cambio a sei rapporti manuale comandi al volante oltretutto in pelle per la gestione di cruise control e fonia e radio insomma auto veramente bella ben tenuta fantastica è un'occasione se volete venirla a vedere può approvare venite qui da noi a sei marce per vedere anche visionare tutte le altre auto che abbiamo disponibili veicoli commerciali e da poco anche moto e scooter elettrici 6 i 5 ci